bentornati sul canale ciao a tutti buon weekend perché sicuramente questo video lo vedrete tra sabato e domenica allora vi volevo parlare di questa nuova cosa che mi sta cambiando un po' la vita mi sta agevolando tantissimo nelle pulizie soprattutto vi parlo di un aspirapolvere che dire low cost forse troppo low cost ma è talmente low cost che è di un'efficacia di una efficacia anzi scusate di un'efficacia di una perfezione incredibile incredibile parlo di lei ve la presento subito beh mi riesce molto difficile farvela vedere insomma per intero così presentandola insomma in questa piccola anteprima ma adesso io man mano che parlerò scorreranno le immagini di questa be clean perché il questo è il nome di questa aspirapolvere che ho acquistato presso il negozio casanova che c'è comunque in tutta italia prezzo iniziale era 39 euro ma l'ho trovata praticamente a un buon sconto più del 30 per cento a 20 euro all'inizio ero molto scettica sentendone parlare da una mia collega ma man mano che lei mi parlava delle prestazioni fantastiche di questa aspirapolvere me ne sono convinta ho detto ma sì per 20 euro ho detto perché no proviamo è incredibile perché si presenta come un piccolo giocattolino molto molto leggera veramente si stenta quasi a credere che sia un aspirapolvere poi smontandola diventa una vera e propria aspirapolvere quindi veramente passandola dovunque sui tappeti sui divani ha le prestazioni al cento per cento di una vera e propria aspirapolvere anzi è un aspirapolvere che uso poco per aspira briciole ma me mancava l'aspirapolvere perché l'ho sostituita con mia la fantastica scopa in silicone vi metto qui il link o nella schermata finale se non avete visto il video perché comunque mi ha delle grandissime prestazioni ma devo dire che in questo periodo dove ho avuto appunto l'incidente sono caduta da poco al lavoro e quindi ho avuto un bell'infortunio alla spalla sinistra mi sta dando veramente una grandissima mano poi quando ho veramente poco tempo meglio usare appunto l'aspirapolvere e ti sbrighi veramente subito e si sa il motore è veramente incredibile è forte forte ha un aspiraggio si dice non lo so comunque devo dire che è incredibile non lascia assolutamente niente in che non sia stato aspirato è facile il suo smontaggio si presta subito a far cadere giù tutto quello che è stato aspirato peli polvere tutto veramente tutto non lascia niente al caso nulla 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 io poi finito il tutta la giornata di averla comunque usata in casa mi piace subito svuotarla pulirla disinfettare anche tutto l'interno e togliere il filtro che è facilissimo da togliere pulirlo e farlo asciugare per tutta la notte l'indomani poi riutilizzarlo un'altra cosa che ho scoperto che è veramente fantastico all'inizio appena ho cominciato a usarla buttando via appunto l'aria dal motore esattamente da da questa parte da questa parte qui esce dell'aria ed era dell'aria maleodorante di plastica insomma essendo un prodotto nuovo a volte fanno dei cattivi odori allora ho pensato di mettere degli oli essenziali che man mano che io passo l'aspirapolvere profuma tutta casa una scoperta fantastica vi consiglio se avete un aspirapolvere del genere che magari non sia folletto o daisono perché credo che questi abbiano i loro prodotti a sé non mi voglio sbagliare vi consiglio di usare le ioli che uso io sono delle goccine della stenom adesso li vado a prendere sono fantastiche un pulito un odore di pulito di pulizia proprio veramente sono richiuse dentro queste queste gocce di stenom che sono fantastiche ve le consiglio se avete la possibilità di conoscere una rappresentante vi consiglio veramente di acquistarle allora queste sono le goccine che vi consiglio di acquistare si chiamano blue drop ho provato anche altri oli essenziali a mettere nel filtro ma quanto rendono queste non rendono nessun altro tipo di olio essenziale queste sono veramente veramente fantastiche bene se non trovate questo aspirapolvere per chi volesse veramente spendere poco per chi vuole veramente spendere poco e non ha la possibilità di comprare un aspirapolvere diciamo dal costo che superi le 100 euro vi consiglio veramente di acquistare queste e di recarvi nei negozi casanova questo non è un video collaborazione voi lo sapete tutto ciò che mi piace io amo condividerlo con voi ma se non lo trovate su casanova vi lascio il link nell'info box di amazon quindi potete acquistarlo su amazon però al costo di 39 euro e lo trovate anche in altri colori quello su amazon credo che sia sul verde la mia è bianca e arancione eccola qui qua c'è il tasto di accensione oddio il tasto di accensione insomma è veramente fantastica ragazzi fantastica io me la sto pensando se acquistare prossimamente una dice o una folletto perché veramente le prestazioni di questo aspirapolvere mi stanno veramente soddisfacendo e niente spero che questo video di questa aspirapolvere fantastica e ultra conveniente ultra efficiente che dire che dire io sono veramente sbalordita sbalordita vi dico soltanto che quel giorno la mia amica collega che ha acquistato questa aspirapolvere talmente ha convinto anche altre persone tra cui la sottoscritta che quel giorno nell'arco di una settimana è andata a comprarne per altri almeno 10 modelli perché tutti dicevano vammela a prendere vammela a comprare ti do i soldi quindi vi dico soltanto che è andata veramente a ruba fatemi sapere se anche voi conoscevate questa be clean aspetto i vostri commenti se vi è piaciuto questo video lasciate un like iscrivetevi al canale se volete continuare a seguirmi e niente noi ci vediamo ai miei prossimi video e niente vi mando un grosso bacio ciao